Direttore, abbiamo appena sentito la professoressa per questo grande progetto promosso dalla Nato, di cui essere orgogliosi, tre progetti in tutta Italia. Uno, l'Università di Messina ha fatto una grande operazione appunto culturale, scientifica, ma anche di professionalità, di lavoro e di economia, se vogliamo definirlo in questo modo. L'assessorato adesso ha il compito anche di divulgare e di promuovere questa intensa e importante attività che riguarda una molecola che potrebbe fare la differenza sui prossimi virus, ma anche all'attuale virus Covid. Hai detto tutto sostanzialmente. Io vorrei solo dire una cosa. Intanto non faremo solo divulgazione, ma daremo una mano anche nella fase della sperimentazione sull'uomo di questa molecola attraverso la rete dei nostri comitati etici. E quindi siamo assolutamente a disposizione della ricerca per fare tutti gli successivi alla fase preliminare della sperimentazione, che poi deve dare i suoi frutti anche sull'uomo. Quindi su questo siamo assolutamente entusiasti di poter collaborare con l'Università di Messina attraverso le nostre aziende ospedaliere. Ma poi vorrei dire che quando mi fu proposto questo tema io sono stato immediatamente entusiasta perché eravamo nella fase in cui il vaccino non c'era e io avrei voluto fortemente avere un rimedio, una pillola, un medicamento, un farmaco tale da poter tamponare tutto quel disastro che ci stava capitando in una fase in cui non c'erano mascherine, non c'erano ventilatori, non si sapeva, anzi si sapeva ancora meno di quanto si sappia oggi di cosa è questo virus e come funziona e come debellarlo. Le dico che ancora oggi non abbiamo le idee chiare perché poco fa abbiamo dovuto ricoverare una persona positiva da un mese che è in condizioni gravi perché ancora i protocolli non sono affinati come vorremmo. Questa pillola se fosse già in nostro possesso ci avrebbe risolto il 90% dei problemi. Quindi quando ci raccontarono di questa idea noi subito fumo entusiasti, abbiamo aderito con grande slancio a questo progetto che è importantissimo che da un lato avrà, se andrà a buon fine, un risultato medico fondamentale ma in ogni caso testimonia l'elevato livello dei nostri ricercatori del nostro sistema scientifico di cui noi non possiamo che essere orgogliosi. Quindi questa collaborazione che spero sia fruttuosa al massimo in ogni caso è andata liscia, è andata con grande soddisfazione reciproca e sta procedendo molto bene. Poi l'imprimatur della Nato ci rende pieni di orgoglio perché come diceva la professoressa solo tre progetti degli enti più prestigiosi in Italia, tra i quali c'è l'Università di Messina, è una cosa molto importante che ci fa essere soddisfatti di quello che facciamo. Certo se uno va anche a guardare l'aspetto economico di un progetto di questo tipo, la professoressa raccontava che questo progetto è stato finanziato con 300 mila euro. Volendo sono spiccioli nel campo della pubblica amministrazione e con 300 mila euro si è riusciti a portare avanti uno studio che oggi è diventato una molecola da poter utilizzare, da poter sperimentare sull'uomo e che potrebbe risolvere tanti problemi. Allora chiedo al direttore, visto che è una figura importante di questo assessorato, bisognerebbe ancora di più investire sulla ricerca e su quello che sono questi piccoli nuclei delle nostre università che spesso hanno dentro dei geni e che noi dovremmo investire anche su stimolare ancora di più. Assolutamente sì, ma d'altra parte questa esperienza dimostra che non è tanto l'ammontare finanziario che viene investito quanto la qualità delle idee e dei progetti. Il sistema italiano è noto per non essere un sistema in cui la ricerca drena tante risorse come quello americano o di altri paesi occidentali, però le idee del Made in Italy, la brillantezza dei nostri ricercatori hanno fatto spesso la differenza. Certo, se riuscissimo a incrementare le risorse finanziarie destinate e soprattutto scegliere le idee da portare avanti con una diversa mentalità, quindi attraverso un approccio meritocratico e selettivo che non sia legato ai filoni delle scuole di ricerca ma alla bontà dei progetti che vengono proposti, allora effettivamente avremmo un risultato in termini di efficacia superiore. Questa esperienza dimostra che le idee ci sono, bisogna solo saperle selezionare, sposare, individuare e portare avanti. Poco fa a telecamere, devo dire ai nostri telespettatori, c'è stata una piccola discussione, ma così anche simpatica, fra la nostra professoressa e il nostro direttore, che riguardava giusto questo vaccino, vaccino sì, vaccino no, piuttosto che molecola sì, molecola no. Allora professoressa, diciamoci un po' la verità, sto vaccino è davvero utile rispetto al lavoro che state facendo voi oppure dovevamo pensare tutt'altra cosa? No, è assolutamente utile. Io dico sempre che il vaccino è l'arma finale con cui vinceremo la battaglia e su questo è un'idea radicata. Dico che nel campo degli antivirali è stato fatto qualcosa che è stato terribile negli ultimi anni, nel senso che la ricerca antivirale non è stata finanziata completamente, perché si è sempre pensato che i vaccini... Che il virus ce l'aveva qualcun altro? Il virus ce l'aveva qualcun altro perché molto spesso sono in zone, è brutto dirlo, ma sono in zone povere del mondo. I virus che abbiamo noi nei paesi occidentali sono dei virus che oramai sono cronici, che sono l'epatite C, fondamentalmente l'HV. E su questi virus esiste un portafoglio di farmaci che in qualche modo hanno cronicizzato le patologie e che quindi si può andare avanti così. Su questi nuovi virus emergenti non è stato fatto nessun investimento. Quando è arrivata la pandemia non avevamo nessuna molecola da poter utilizzare. Tant'è vero che tutti gli scienziati, che fossero medici, che fossero chimici o virologi e così via, hanno in qualche modo guardato un pochino quello che avevano nel cestino della spesa. Cioè le molecole che avevamo praticamente utilizzato per altre patologie e che potevano dare un sollievo. Non avevamo nessuna arma, nessuna molecola da provare contro il SARS-CoV-2. Siamo stati per questo motivo bloccati in casa, chiusi, in attesa che le cose cambiassero. Poi è stato un miracolo della scienza l'avvento di questo vaccino in tempi così brevissimi. Ma per una futura pandemia è necessario avere qualche molecola che ci protegga nelle fasi iniziali e che dia la possibilità agli scienziati di mettere a punto il vaccino. Perché purtroppo avremo ancora a che fare con le pandemie, avremo ancora a che fare con i virus. E dobbiamo essere preparati la prossima volta. Io sono stato un fortissimo sostenitore della campagna vaccinale. Personalmente ho fatto il vaccino con l'AstraZeneca che in un momento in cui tutti cercavano, secondo me per interessi economici, di buttarlo fuori dal mercato e ci sono riusciti. Quindi nessuno come me si rende conto, si è reso conto dell'importanza del vaccino e di quanto maggiori siano i benefici dei vaccini rispetto a quei pochi, ancora molti tutti da dimostrare, casi di correlazione con effetti avversi dovuti al vaccino. Quindi il vaccino è sicuramente un'arma fondamentale. Ma è un'arma di tipo diverso rispetto a quella farmacologica di cui discutiamo oggi, che io sicuramente avrei voluto avere a disposizione prima dell'arrivo del vaccino. È chiaro che nel caso dei farmaceuti che hanno investito in prima battuta là dove c'era un interesse economico più ampio collegato al fatto che il vaccino lo devono fare tutti e il farmaco lo prende solo chi si ammala. Quindi l'altro vantaggio del farmaco rispetto al vaccino è che un farmaco come questo, che è come AutoCAD, che lo puoi usare per tutto, multiple-purpose, è un farmaco eccezionale che lo puoi utilizzare e immediatamente ti blocca, mentre il vaccino protegge solo quelli che lo fanno. Il vaccino va aggiornato con la variante del virus, il virus muta con una velocità impressionante, non mi ricordo più a che variazione siamo arrivati, con la necessità che ora stiamo facendo i vaccini aggiornati alle nuove varianti del virus. Con tutto questo, se noi oggi abbiamo un numero di casi positivi decisamente superiore a quelli della prima ondata ogni giorno, ma abbiamo un tasso di mortalità molto più bassa, il merito è del vaccino, perché il vaccino, ancorché non sia aggiornato, ci ha consentito di avere delle difese immunitarie che ci proteggono anche da questo ceppo evoluto che è diverso da quello rispetto al quale il vaccino è stato concepito. È un po' come il vaccino influenzale che ogni anno cambia, lo rifacciamo, ma ogni anno ci protegge anche il vaccino che abbiamo fatto quell'anno, ma che è calibrato sulla variante dell'anno precedente. Quindi sono due armi assolutamente indispensabili da avere nella Santa Barbara, che si integrano, che sono in qualche modo complementari e devo dire che l'arma farmacologica secondo me non è secondaria e non è tanto meno efficace del vaccino. Bene, concludiamo dicendo che questa pandemia qualche cosa ce l'ha pure insegnata. Intanto bisogna essere sempre pronti, non bisogna abbandonare i piani pandemici e tutto quello che serve per tutelare la nostra popolazione. Lo devono fare non solo a livello nazionale, ma ognuno deve avere la responsabilità della propria regione per portare avanti questa iniziativa. Ma ci ha insegnato pure che bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza, perché comunque il mondo ci riserva sempre belle ma anche cattive notizie. Io la posso dire un'eresia. Più che il piano pandemico vorrei avere i farmaci, perché io, anche se avessimo avuto il piano pandemico oggi vigente, senza le mascherine, e nessuno poteva pensare che noi, si potesse avere una scorta di mascherine di sei mesi, nessuno lo poteva pensare, e non lo può scrivere nessun piano pandemico, perché significa immagazzinare una mole di materiale che va a scadenza, che probabilmente nessun sistema sanitario si può permettere. Allora, se uno invece ha la possibilità di reagire in maniera immediata, con un farmaco efficace, ed efficace verso una pluralità di virus, allora quella è, diciamo, l'uovo di Colombo, è l'arma vincente di una strategia di contrasto della pandemia. Ma io dicevo, non solo ci insegna il piano pandemico, cioè bisogna essere pronti, ma bisogna soprattutto investire anche in ricerca, e investire sulle nostre... Sulle buone idee. Sulle buone idee, perché abbiamo tanti scienziati bravi studiosi nella nostra Sicilia che invece vanno promossi. Assolutamente sì, vanno stimolati, vanno aiutati, vanno messi nelle condizioni di dare il meglio di sé, tutelati, è importantissimo. Da tante logiche perverse che imperversano, ma questo ci proveremo. Allora, viva la molecola a questo punto, no? Assolutamente sì. Il 433 che è quasi uno schema calcistico. Come? Mets 433. Grazie a voi, allora. Grazie.